Quali sono i pericoli maggiori? No, vabbè, guarda, ti dico subito che abbiamo già a grandi linee analizzato e Bologna ripercorre a grandi linee le stesse caratteristiche che aveva avuto Catania la prima giornata di campionato. Moro uguale a Gromadoschi. Sì, con il suo terminale principale d'attacco che è l'opposto, Gromadoschi, e con, come ha detto Mauro, un bravo schiacciatore, un ragazzo molto giovane. La classe 1990 a Marretta. E due centrali che uno, bene o male, ha esperienza perché ha sempre calcato palcoscenici di A1 e di A2 e l'altro fisicamente molto forte. Quindi prenderemo le giuste precauzioni, dovremo battere molto bene e stare molto bene attenti anche in attacco, insomma, per non andare a incontrare le loro mani. Il dato della battuta di Catania è un dato sicuramente positivo, mi sembra aver visto le statistiche sempre della Lega, e quindi è rimasto alto anche il livello di battuta. L'anno scorso spesso, ma poi l'anno scorso qualche volta le partiene non contavano la differenza in battuta. Tu e Enzo Di Manno spesso la facevate in maniera violenta, anche Alex Panakis, Colflot. Questa è una categoria diversa, ci vuole anche molta più potenza e quindi meno male a volte quando non viene la potenza l'importante è non fare errore.